Allora, personalmente è stata un po' la domanda di come mi sarei comportata io nella situazione e di come mi comporterò se mai succederà una cosa del genere anche nella mia vita, visto che anche dalle domande che sono state fatte non sembra neanche un'ipotesi che devo considerare così impossibile. E niente, se c'è qualche modo in cui tutti possiamo arrivare a pensare, a riflettere e poi arrivare a fare la scelta giusta. Io invece pensavo, cioè riguardo al processo, alla pena di morte e tutto il resto, mi è venuto in mente ok, la pena di morte non è una pena che può ripagare i 6 milioni di morti. Allora mi è venuta un po' la domanda, allora qual è la pena migliore? Cioè l'ergastolo, però dici, vabbè, l'ergastolo lo danno anche a persone che non hanno ucciso 6 milioni di persone. Cioè allora, boh, mi è venuto un po' in mente, cioè che forse soltanto l'autoconsapevolezza di ciò che si è commesso potrebbe essere la vera pena, soltanto che, vabbè, anche lì è un bel casino raggiungerla magari, soprattutto visto che dopo tutto quel processo lui non la va raggiunta, magari non è così semplice. Grazie.